Tre casi di positività in via di guarigione all'interno di una squadra quasi interamente vaccinata, ma l'imprevisto prolungamento dello stop al campionato offre al GLFC l'occasione per recuperare l'intera rosa a livello atletico e mentale. A seguito del vertiginoso incremento dei positivi al Covid durante le festività, la ripresa dei campionati di eccellenza, promozione, prima, seconda e terza categoria è stata posticipata al 23 gennaio. Ma non tutto il male viene per nuocere, la squadra di Mister Evola, demotivata e delusa dalle cinque sconfitte registrate nelle ultime partite di andata del campionato di promozione, muta questa pausa in un'opportunità per tornare al completo e recuperare la grinta e la determinazione giusta per scendere in campo consapevole delle proprie capacità. La stiamo prendendo in modo positivo anche perché avevamo qualcuno da recuperare a livello atletico e anche a livello mentale e la squadra sta recuperando e sta reagendo nei migliori dei modi. Sicuramente ci va anche il calcio giocato, quello senza ombre di dubbio. Questa domenica già siamo a due domeniche di stop e speriamo di riprendere il 23 anche se la vedo dura. Ci sono stati casi di positività all'interno della vostra squadra? San Martino, il capitano Angelascia, Tony Scerra. Abbiamo avuto tre casi di positività ma sono tutti in fase di guarigione. Tony è già tornato in gruppo, Angelo tornerà venerdì in gruppo. Un campionato che soprattutto nelle prime battute ha regalato soddisfazioni al GLFC ma le decisioni del giurice sportivo dopo la partita contro il Pro Ragusa hanno sancito l'avvio di un periodo piuttosto buio. Ascia e compagni iniziano così a fare i conti con squalifiche e infortuni determinanti per le partite successive. Il bilancio sicuramente è stato positivo fino a fine novembre. Abbiamo pagato ovviamente qualche infortuna, abbiamo pagato quella partita contro le regi in casa però siamo alla linea di quello che ci eravamo prefissati con la società che ci siamo detti che questa squadra può arrivare a playoff e può fare a playoff. Questo sicuramente è il nostro obiettivo, ci eravamo magari illusi di poter vincere il campionato ma ovviamente ce ne facciamo dare ragione, il nostro obiettivo è quello di arrivare a playoff. Attenti alle disposizioni di sicurezza e in continuo monitoraggio dell'intera squadra i gialloneri non nascondono la voglia di tornare in campo ma come sottolineato dallo stesso mister la salute e il rispetto verso gli altri sono indispensabili in una situazione difficile come quella che si sta affrontando. Sono tutti vaccinati, questo non te lo so dire, ma quasi tutti, forse ne abbiamo solo uno per quanto riguarda il fatto di stare attenti ovviamente stiamo cercando di i ragazzi di Gela di andare a casa che si faranno la doccia a casa ovviamente chi è di fuori sta dentro lo spogliatore e si cambia ovviamente il rischio c'è quello sicuramente ma appena c'è qualche lineettina di febbre o quant'altro e allora cerchiamo di farlo rimanere a casa e di prendere le giuste precauzioni. Come sta reagendo la squadra in questo periodo di pausa? Quali sono le tue aspettative? Beh, i ragazzi sicuramente stanno fremendo perché giustamente manca un mese che siamo fermi e giustamente sono un po' tenuti in gabbia. Dobbiamo quanto prima riprendere il campionato anche perché non è più domenica senza calcio e giustamente ci fa male perché l'abbiamo vissuto l'anno scorso, l'abbiamo vissuto anche due anni fa.